Un aperto della trincea del lavoro deve diventare l'alecco a cui tutti voi aspirate, ripeto un'alecco ordinata, un'alecco pulita, un'alecco sicura, con un'amministrazione amica delle imprese, con una politica che danno benessere e lo diffondono tra tutti, con un'amministrazione anche che abbia una politica sociale non per le cooperative ma per andare ad aiutare quei cittadini che non ce la fanno ad arrivare alla fine del mese. Questo è ciò di cui l'ecco ha bisogno, questo è ciò di cui abbiamo bisogno tutti noi, questo è ciò di cui ha bisogno l'Italia. Quindi la missione è data, se avessi uno spadone ma la Michela si è dimenticata da portarmelo, lo picchierei sulla spalla destra di ciascuno di voi nominandovi missionari della libertà. Siete tutti nominati missionari della libertà, andate e diffondete il verbo, andate e convertite coloro che ancora convertiti non sono. Andate e diventate meritori, diventate addirittura azionisti della libertà.